Ciao ragazzi, oggi ci troviamo qua a Lakema e siamo in giro a vedere un paio di moto, un po' di mezzi, un po' di pre... Guardate che lavoro! Ehi, ragazzi, ci siamo! Sono dei mezzi paura qua! Vabbè, passiamo a cose serie adesso, guarda questo marpione! Leila! Ciao! Buongiorno! 16 cavalli in più! Altri mezzi interessanti elettrici, oggi qua abbiamo l'energica... ...eco completamente elettrica... ...d'acqua e spiega... ...di un'acattività... ...d'acqua... ...un'acattività... ...d'acqua... questo sono due batterie abbiamo due bambini con il stesso sistema una è 6 kilowatt e questa è 11 kilowatt e quanto riguarda il range? quanto chilometri? con 6 kilowatt abbiamo fatto 105 perché abbiamo combinato con la città e la città e per questo 11 kilowatt non proviamo ancora qui abbiamo un'auto più grande abbiamo circa 90 qui abbiamo carbon, fibre, parti e all'aluminium e questo è 107 kilowatt e dove è fatto? in Spanio in Marcellona e questo è still frame e con plastica definitivo mi sono innamorato qua io raga oggi ho perso la vista adesso andiamo a vedere gli Africa Twin ci muoviamo verso Honda ah Honda ciao 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 ciao